salve a tutti i giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video è stato annunciato da poco lo structure deck forest of the trap tricks quindi noi come da consuetudine andremo a fare una piccola teoria sulle carte che verranno messe nello structure deck al momento non ci vedo nessuna riprinte importantissima per il mazzo tra lasciando ht che potrebbero essere messe come non messe però come sempre andiamo a fare le teorie su le ristampe prima di iniziare come sempre vi invito a iscrivervi al nostro canale li passate in questo video in descrizione prima di essere ragionati col mondo di yuki grazie mille e partiamo allora secondo me le carte dark type le mettono tutte perché non è possibile che lasciano fuori qualcosa secondo me perché altrimenti il mazzo non è che è scarso anzi per me è molto interessante però comunque dovrebbero mettere tutte come il mantis il meleo anche le carte di extra deck perché se mettiamo tutte queste più le nuove carte verranno aggiunte il deck già comincia ad essere veramente molto molto interessante sperando che mettano qualcosa di buono ma io comunque penso di sì perché alla fine vedete i mostri di main di extra di archetype e la trappolina trap trick trap hole nightmare che è comunque una carta molto molto interessante poi andiamo a vedere le altre carte che potrebbero essere inserite quindi le carte hole credo allora time state pay trap hole quando l'avversario speciale non ho più mostri dita la mano dall'extra deck li mischiamo nel mazzo e perdiamo mille per ogni carta rimischiata quindi bypass il fatto di mandargli al cimitero di spaccarli è molto molto buono perdiamo mille ma non è che sia cosa che ci interessi dark hole perché comunque vabbè nel 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 tema d'archetipo ci sta comunque bene poi comunque credo che verrà messa poi per completare comunque il mazzo e ci sta è inerente bottomless che sarei anche molto felice di rivedere quando l'avversario evoca uno più mostri contemporanea glieli spacchi tutti quando gli evoca in contemporanea poi gli rimuovi oppure vabbè gli spacchi quello che evoca da solo molto molto forte anche contro i pendoli perché comunque qualcuno torna i deck pendolo e poi quando c'è l'evocazione pendulum glieli schiaffi tutti via ora c'è una piccola amnesia non mi ricordo se gli rimuovi perché non vanno al cimitero quindi non mi ricordo più perché non è che io utilizzi tanti pendoli e non è che quelle volte che li utilizzi mi becco la bottomless quindi non è che mi ricordo bene svecchiatevi un po' fatemi ricordare un po' vi prego sono vecchio floodgate trap hole carta anche l'evoca è molto interessante perché quando l'avversario aveva uno più mostri gli schiaffi tutti coperti in difesa non possono cambiare la loro posizione quindi ti fa anche una bella interruzione perché avendoli coperti non li possono riutilizzare oppure non possono riutilizzare gli effetti quindi gli rubi anche il tempo altra carta veramente bella io ci metterei anche trap hole ma vabbè non posso va bene completare il mazzo ma mettere trap hole no grave digger trap hole ristampa che secondo me ci sta pennello soprattutto se magari lo strutture viene qui potrebbe essere quella ristampina carina perché comunque abbiamo secret e ultra i prezzi non sono altissimi e ancora lo sto aspettando vedi che avrei l'ho ordinata l'anno scorso ma è mai arrivata quando l'avversario attiva l'effetto di un mostro dalla mano cimitero oppure bandito io lo neghi e l'oppo perde 2000 quindi grande carta poi trap trick che è un must per chi utilizza tre carte trappole normali quindi se non c'è lei non c'è il mazzo poi network trap quando l'avversario è speciale un mostro nella zona main dal main deck scusate oppure dal cimitero lo bandiamo coperto quindi potrebbe essere un'altra carta veramente interessante poi avevo messo non credo ci sarà in realtà void trap quando l'avversario è speciale uno più mostri con 2000 di attacco neghiamo l'effetto di uno di essi e lo spacchiamo potrebbe starci come non starci alla fine io l'ho messa in più secondo me più per il non credo che inseriranno altro però comunque con il trap hole con il tema del mazzo ci sta qui sono praticamente messe tutte le carte hole sono inerenti ai trap tricks quindi molto bene ne ho scelte alcune perché non credo che le metteranno tutte comunque se volete vederle stanno tutte qui tanto vi lascio come sempre il link del sito detto questo fatemi sapere voi cosa pensate e le vostre teorie noi come sempre ci vediamo nel prossimo video e un saluto a tutti sì Grazie.